Dai ragazzi, due try ancora sull'airbag e poi si va sul duro Proprio voglio riportarmelo a casa sto trick Ma è chiuso, è chiuso, è chiuso, dai, cazzo Adesso dobbiamo solo più cercare di riuscire a controllare la bicicletta ma è portato a casa È chiuso ragazzi Andiamo sul duro, che dici? Che diciamo? Andiamo sul duro o no? È ora di andare sul duro secondo me Aller Marco, lève le genou, lève, 20 kills Aller, guarde, guarde, guarde Wow, vache Là c'est bon Vi giuro sono ancora senza parole Aller 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 Aller